Ciao Atleti, un piccolo vlog veloce veloce per dirvi tre cose. La prima è che finalmente sono tornato nella mia Liborno per tutto agosto e ci sta che mi vediate in Toscana a fare qualche gara su strada in questo mese. Non fatevi problemi a salutarmi e fare due chiacchiere che fa sempre piacere. La seconda cosa è che è addirittura ad arrivo un altro episodio delle mie live, sapete quegli eventi in cui porto il streaming su YouTube Gli Atleti Forti, in cui vi ricordo è possibile interagire tramite la live chat facendo domande a veri e propri campioni. Chi abbiamo stavolta? Due juniores vengono dai mondiali under 20 di Tampere, Simone Barontini quinto classificato nella gara degli 800 metri in una finale pazza e poi Edoardo Scotti che ha fatto quarto nella gara individuale dei 400 ma vi ricorderete ha vinto insieme a Sibillo Getia e Romani la 4x400 maschile. La prima staffetta in un mondiale vinta in assoluto dall'Italia. Domani lunedì 30 luglio dalle nove alle 10. Dovrebbe essere questo l'orario, ve lo confermerò postando su Facebook l'evento e anche su YouTube e su tutti i canali possibili insomma in modo che la cosa abbia più risalto possibile. Sto cercando di coinvolgere come sempre anche Stefano Frascoli, uno dei rappresentanti degli atleti disagiati. È un po' impegnato con le sue cose ma se ci sarà farà valere le sue doti da opinionista. Dunque mi raccomando live con Barontini e Scotti domani sera alle 9. Non mancate. Ed infine la terza notizia è che lo sapete si stanno avvicinando ai campionati europei e io in quanto mezzo fondiere non potevo lasciarmi scappare l'evento. Sempre domani alle 11 del mattino parte un progetto in cui vi racconterò per fila e per segno di tutti gli azzurri presenti in questa competizione. Qualcosa di grosso. Non dico altro per stuzzicarvi dalla curiosità ma se siete amanti dell'atletica si tratta di qualcosa da non perdere. E dunque vi aspettano tante belle cose qua sul canale del mezzo fondiere. Ciao atleti ci vediamo al prossimo video alla prossima gara.